Io sono orgoglioso che il 16 dicembre del 92, o 93, non ricordo neanche più l'anno, a ridosso di Natale, su invito del colonnello comandante dei Carabinieri di Roma, alla presenza di tutti gli ufficiali e i sottofficiali dei Carabinieri e anche di altri esponenti dell'istituzione, quale l'allora questore Contrada, sia stato ospite di una cena natalizia. Io, a differenza di altri che vanno con le veline di turno, sono andato con i Carabinieri che lavoravano con me nell'inchiesta Mani Pulite. Se poi qualcuno di essi, nella specie questore Contrada, ha commesso fatti per cui successivamente è stata arrestata e ha dovuto rispondere alla magistratura, beh, semmai è lui che ha sporcato quella cena, non io che vi ho partecipato. Tutto qui. Qualcuno dice che lei avrebbe avuto rapporti con i servizi segreti. Ebbene, sì, lo confesso. Io stavo facendo il metalmeccanico in Germania. A un certo punto sono stato contattato da uno che pensava essere del KGB, invece era della CIA. E mi ha parlato, siccome io non so parlare italiano, ma ha parlato in inglese. Sapessi come sono inglese io, cavo. E mi ha detto, io adesso ti faccio laureare, ti regalo una laurea perché tu non lo riesci a prendere. Poi ti faccio diventare, prima segretario comunale, vincere un concorso. Poi ti faccio vincere il concorso di commissari di polizia. Poi ti faccio vincere il concorso di magistratura. Poi ti faccio andare a Milano. Poi ti faccio mettere nel sacco Borrelli, D'Ambrosio, D'Avigo, Colombo. E tutti insieme sconfiggiamo questa prima repubblica del CAF, Andreotti, Craxi e Forlani. E lo sconfiggiamo con una serie di inchieste. Se avessi fatto questo, ma che bravo che so. Perché questo toreme allora, secondo lei? Ma perché non hanno più niente da fare, siccome hanno finito di fare pure la pipì sotto al vaso. Per quanto mi riguarda devono inventarsi qualcosa. Ma, ripeto, è un bel film che invito qualcuno a farlo. Magari gli do pure una mano io, visto tutto quello che è successo. Perché io so tutte le puttanate che hanno raccontato su questa storia. Però, voglio dire, ma vi rendete conto dove siamo arrivati? Cioè, uno che, soltanto perché ha fatto l'inchiesta manipulita. Un'altra cosa voglio dire. Ma se fosse vero tutto questo, e che quindi tutto quello che abbiamo scoperto è tutto un'invenzione. Quei duemila miliardi di liricor che ho sequestrato nell'inchiesta manipulita, frutto di tangenti. Ce l'ho messo io. Ebbene, si confesso, sono tutti gli straordinari di quando facevo lo film. Il metal meccanico in Germania. Li rivolgo.